Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato, che bel sabato stamattina! Te caldo per tutti, offro io, anzi no, cola, cola, senza fare nessuno messaggio subliminale, ma cola per tutti la nuova bibita nero-azzurra, Correa più Lautaro, può essere anche con la K, Paggeco più Lautaro, ma Correa più Lautaro è il, diciamo, tabellino di Verona dopo una rimonta, dopo una rincorsa che può dare veramente tanto come convinzione ulteriore di essere ancora lì, non solo in testa della classifica, ma con la forza, l'orgoglio, il carattere dei campioni d'Italia, dopo un brutto primo tempo, l'abbiamo sottolineato anche in live e nelle pagelle, andatevele a riguardare, se non le avete ancora viste, l'Inter, diciamo, che è stata sistemata molto sapientemente da Inzaghi all'intervallo e poi abbiamo visto una squadra con grandissima personalità nel secondo tempo che ha creato, ha trovato subito il pareggio, come per dire adesso si ricomincia un'altra partita e poi grazie anche ai cambi di Inzaghi che non aspetta il 75esimo per fare i cambi, ma che molto prima si affida e li fa anche 5, ha cambiato la partita con Vidal e soprattutto Correa, bene anche tutti quelli che sono entrati di Marco, lo stesso Vessino, Sensi, che forse avrebbe meritato qualche minuto in più, vista la cattiva giornata di Barella e anche Brozovic e Cialanoglu, tè caldo pronto, un tè alla cola questa mattina, tante critiche su qualche giornale e ci fanno abbastanza sorridere, alla fine, come anche alla fine all'intervallo già si moltiplicavano le vedove di chi è andato via, i pessimisti catastrofisti, addirittura qualcuno scriveva quest'anno andiamo in Europa League e quant'altro, è un Inter che alla fine ha subito solo un tiro in porta con il regalo, la frittata di Andanovic, forse questo può preoccupare un po' perché non è certo il modo di iniziare dopo anche tutti i problemi che c'erano stati l'anno scorso, tante partite non al top, sicuramente un campanello d'allarme, anche se non è solo colpa di Andanovic ma anche i compagni che non gli hanno fornito un passaggio pulito e anche in mezzo al campo, se non gira Brozovic abbiamo visto come la squadra ne risenta, bene però Vidal quando è entrato ha fatto la differenza e anche trovando l'apertura spettacolare per il gol del 2-1 su cui Darmian ha corso per tenerla in campo è riuscito poi a disegnare una parabola incredibile, colpo di testa dal dischetto di Correa. Anche io dicevo non ha i gol che servirebbero ma ha zittito subito e qui bisogna ammetterlo, prima partita due gol, se continuasse così ragazzi. Dzeko un po' peggio rispetto all'esordio ma era tutta un'altra partita, ha lottato, ha aiutato la squadra, ha spizzato, ha fatto tante sponde, problema che non funzionava, non girava il centro campo, anche Barella, per me ho visto qualcuno che gli ha dato 6 e mezzo, poi vediamo i giornali, però non è stata sufficiente, non è il solito Barella, troppo nervoso, troppi palloni persi, poi adesso gli è presa sta cosa che è anche a metà campo, cerca i colpi di tacco quando serve concretezza, come ne ha avuta Vidal quando è entrato, ancora determinante, come col Genoa è un gol un assist questa volta, tanti palloni recuperati, falli subiti e poi l'apertura per il 2-1, un Inter che così va alla sosta con 6 punti, 7 gol fatti, uno subito, inizio migliore penso non ci potesse essere dopo questa folle estate, tutti i problemi che ci sono stati e adesso aspettiamo anche l'inizio della Champions, si comincia il 15 settembre subito contro il Real Madrid che dovrebbe avere anche Kylian Mbappé, anche se non si è sbloccata ancora e mancano 3 giorni alla chiusura del mercato, però come diciamo morale di questa seconda partita, intanto Grandinzaghi che ha chiesto e voluto proprio Correa in tempo e l'ha buttato nella mischia risolvendo la partita e poi comunque complimenti a Marotta Ausilio che sono riusciti a allestire la squadra migliore con la spesa minore possibile e nonostante le fughe e gli addi di chi non merita neanche di essere nominato non solo quel signore là, ma ce ne sono 3, forse Achimi è l'unico incolpevole sacrificato per il bilancio, ma adesso che succede? Secondo me si resta così, bisogna capire Satriano se verrà confermato come quinto attaccante, i giornali dicono che l'Inter ha ancora la ricerca della quarta punta come se non esistesse Sanchez che invece tra poco sarà a disposizione, anche lì manca un po' di rispetto, posto che anch'io andrei a trovare una soluzione per avere un giocatore un po' più fit, un po' più che garantisca più continuità dal punto di vista anche della presenza, però stiamo a vedere se può accadere qualcosa, la Juve sicuramente è messa peggio che deve trovare un sostituto di Cristiano Ronaldo che ha preso il suo oggetto privato e se ne è andata salutato, non è rimasto un secondo in più, Allegri proprio non lo soffre, non lo può vedere e si è capito dopo la prima panchina ha detto io qui non ci resto più, fa un po' specie come abbia invece dribblato il Manchester City con cui aveva un accordo già quasi da vidimare e a proposito, quando io su Twitter metto l'emoticon della firma e che c'è un accordo, non che ha già firmato, quindi qualsiasi tipo di giornale, di media al mondo aveva messo ieri mattina in prima pagina Ronaldo con la maglia del Manchester City, poi cos'è accaduto? È accaduto che il Manchester United ha offerto praticamente 25 milioni al giocatore all'anno, quando il City gliene offriva meno di 20 e 25 milioni alla Juventus col City che non voleva pagare nulla per il suo cartellino e quindi capite come alla fine Cristiano Ronaldo sia stato di parola nel 2015, aveva detto che non sarebbe mai andato a City, quest'anno non c'è andato solo perché qualcuno ha offerto di più, va bene, chi se ne frega però, come chi gioca in quel di Londra, chi se ne frega, noi ci gustiamo una cola tutti insieme, aspettiamo di vedere se arriverà qualcuno dal mercato su Scamacca, c'è la Juve che pensa a Moise Ken e Scamacca, chissà cosa si sarebbe detto se l'Inter avesse sostituito quel signore là con Ken e Scamacca sostituisce addirittura la Juve, mister pallone d'oro, capocannoniere con due giovani che sono però ancora tutto da costruire, poi si va a ricomprare Moise Ken che aveva praticamente mandato via in malo modo e se lo ricompra pagando anche più soldi, stiamo a vedere, stiamo a vedere, intanto un bel po' di messaggi, andate a rivedervi il video pagelle e ditemi se siete d'accordo con i voti e noi ci ritroviamo, penso in live lunedì, a meno che non ci siano delle belle, belle notizie che arrivano dalle partite serali e quindi siamo lì pronti come su tutti i social con tutte le nostre news, novità e considerazioni. Adesso le vostre hashtag angolo della posta, andiamo a leggere i messaggi più popolari, andiamoli ad aprire, c'è grande entusiasmo dopo la vittoria e la conferma della prima posizione, grande tuco, ottima presentazione direi, già dimenticato quel signore lag, avanti tutta popolo, Yanama, Xkillo, speriamo solo che il problema Andanovic inizi a capirlo anche in zaghi, diamo spazio a Radu, sì adesso però non esageriamo nel mettere il tutto davanti, no ma segna poco, che sogno, dai ragazzi chiediamoci tutti insieme, Amala, Francesco De Pace, sempre comunque onore e pieno sostegno a Inzaghi, belli anche i cu, i cori, scusate della curva, anche quando l'Inter era sotto, Inter solida, è corso pericoli zero a parte l'errore grandi. Fede FCM, sono in attesa di uscire dal Bentegodi, che dire, mi sono rifatto di un Chievo-Inter 1-1, tutti con Simone, tutti insieme, Faber, cambi azzeccati, grande tuco e anche oggi Vidal è entrato benissimo, lo accendiamo, forza Inter, sempre grande Correa, Alexandru, Simone De Salva, Andanovic dormiente, Correa pazzesco come Vidal, un po' da rivedere tutti ma siamo stati squadra, non era niente facile, Andrea Baiocco, che bel giocatore questo Correa, ecco perché Inzaghi voleva lui e non Belotti, intanto i belli vanno, quando dico Simone il bello, per chi non l'ha ancora capito, perché è sinonimo di bel gioco, oltre a la sua presenza, va bene, ma soprattutto perché è bello come bel gioco, ieri c'è stato un po' meno, è iniziato molto bene con tutto di prima, poi è iniziata a salire la pressione, ma anche in live abbiamo detto, non potrà leggere questo ritmo il Verone, infatti si è schiantato nel secondo tempo, non si è mai vista la squadra di Di Francesco, Liviana, bravi tutti, Correa si presenta alla grande, uno scappellotta, Samir poco reattivo, ci davano per spacciati invece, saluti, anche se abbiamo un po' sofferto ma siamo stati grandi, un gran cuore, perlomeno quest'anno vediamo cambi giusti, non un allenatore cocciuto e presuntuoso, bravo Perux, meno male, forza ragazzi, Correa top, Francesco Marigliano, Doc Leo, l'abbiamo portato a casa la grande squadra, l'abbiamo sofferto un po' nel primo tempo, ma loro hanno spinto troppo, non potevano tenere quel pressing e poi li abbiamo colpiti brutalmente, quest'anno tango argentino e cola, 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 un po' spaccati tra attacco e difesa, quasi un buco ma ci pensa il Tucu, a parte il rigore di Lau e poi c'è Inzaghi, il bello, vamos, dimenticavamo, rigore netto, poi anche tutte le moviole di qualsiasi giornale della terra, vedono il tocco che avevamo sottolineato in live sul piede e la gomitata, rigore colossale, non dato dall'arbitro che era lontano ma soprattutto dal Varirati che non so che filmati stesse vedendo, grande secondo tempo, grande Tucu, forza Inter, magari aveva Dazon lì in Var, in Salavar, ma che bel giocatore, grazie Lottito, Davide Cavallo, oltre al Tucu ho visto un grande Vidale, anche noi, Fabio F, ma al primo tempo Brozovic sotto tono come c'è, l'esordio di Correa, fantastico, bene anche la seconda, avanti così, voti perfetti, bravo Marco e via i piangioni, pessimisti, Daniele Visentini, Damiano, buonasera Top Vamos, Vassi Vass, no ma Correa mezzo giocatore, segna poco, cosa ce ne facciamo, scusate, PS, grazie per il rigore non dato, io direi primo tempo così così, con un errorino di anda che però ha fatto il suo come sempre, bene Lautaro, Geco, la difesa, direi ottimo, Vidale, oltre al super Correa, Frank Nerazzurro, Marco tu hai sempre detto che la tua prima scelta era zappata, io sono sempre stato convinto che Correa era la scelta giusta, argentino, giocatore che può, può fare un paio di ruoli e poi giovane, motivato, Inzaghi lo conosce bene, Frank, che direi, hai ragione anche tu, io però sempre convinto che zappata me lo sarei preso, però l'Atalanta non l'ha mollato, gran bella vittoria, ma che giocatore Correa, Gabriel Melodinoz, la faccia di chi diceva eh ma segna poco, è scarso, ecco la risposta, avanti così, e forza Inter, direi che ci siamo adesso un po' di ultime notizie, Sport Mediaset, vediamo l'home page della nostra app sempre aggiornatissima, scaricatela, vediamo come apre Sport Mediaset, fresca, vivace, imprevedibile, così Inzaghi ha già cancellato l'Inter di Conte, Correa l'esordio che sognavo, Inzaghi ci darà grandi soddisfazioni, poi Ronaldo saluta la Juve, sempre stato uno di voi, grazie, 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 grazie a tutti, grazie, poi Maximovic pronto per il Genoa, James Rodriguez verso il ritorno al Porto, quindi un Porto che affronterà al Milan in Champions ancora, e poi il PSG non accetta l'offerta del Real per Mbappé, neanche 170 più 10 di bonus, ora si attende un nuovo tentativo del club spagnolo che vorrebbe chiudere la trattativa entro lunedì prossimo, con Marotta che ha ribadito come il mercato sia chiuso, credo assolutamente che non ci saranno altri movimenti in entrata, la rosa è delineata e omogenea, non era facile sottolineare i giocatori che abbiamo ceduto, ma l'abbiamo fatto in migliori modi, mettendo in sicurezza la società in un periodo particolare, e quindi applausi a Marotta e Ausilio che qualcuno spesso si dimentica. Allora, andiamo in edicola, prima pagina, come giusto che sia, la gazzetta, la dedica a Correa, e la staccata è un Inter che corre a, e poi la gioia di Inzaghi, la situazione in casa è Nerazzurra, e poi i problemi della Juve che deve trovare un sostituto per CR7, Icardi costa troppo, Moise, Ken o Scamacca, però l'Inter corre a, il tuco entra e fa doppietta, ribaltato il Verona, Nerazzurra è la sosta a punteggio pieno, gli argentini super, Lautaro firma al pari, decide il colpo di mercato, Inzaghi e la dedica ai tifosi, poi la Juve prova ai 9, Scamacca e Ken in polo, occhio ai Cardi, mentre Ronaldo a Manchester non avrà la numero 7, il Verona scatta, Lautaro rimedia, poi entra Correa e fa subito festa, vai col tango, Lautaro giù e dà rigore, l'entrata di Ongla, senza dubbi, un solo episodio ma molto dubbio, Ongla con la gamba sinistra, impatta la destra dell'argentino, finendo pure per calpestare il piede dell'avversario, diciamolo senza troppi giri di parola, è rigore, ma Manganiello in corsa e non vicinissimo, non ha la prospettiva corretta, motivo per cui un intervento correttivo del VAR a evidenziare un chiaro e evidente errore, poteva starci, peccato. 30 milioni spesi bene, Oachin Correa, l'ultimo arrivato a casa Inter, è entrata, ha risolto una partita complicata, con una doppietta lussureggiante, di testa il primo gol, di sinistra il secondo, ma se dobbiamo dirla tutta, a folgolarci è stata la prima palla che ha mandato in porta Barella, che poi gli si è girata la caviglia, non è riuscito a andare fino in fondo. I pallonini come questi definiscono un giocatore più di una rete, in quel momento si sono visti la visione, la tecnica e l'intelligenza del Tucu, l'Inter ha vinto il rimonta contro un Verona aggressivo, scorbutico, mai arrendevole, gialloporto, blu, si può imputare la scarsa pericolosità offensiva, un solo tiro in porta, regalato, aggiungiamo il gol di Illich, è evidente come davanti, ma anche qualcosa, è arrivato Simeone, ma è rimasto in panchina, e vabbè. Poi, Paggelle della Gazzetta, Inzaghi 7, noi gli abbiamo dato qualcosina in più, così come a Correa, ma Andanovic 4,5, il peggiore in campo, 6, Skriniar, 6,5, De Vraie e Bastoni, 7, Darmian, 6,5, Barella, ecco, a me non ha convinto ieri, Nicolino non ce ne voglia, 5, Brozovic e Cialanoglu, 5,5, Perisic, che secondo me invece è stato sufficiente, 6, Dzeko, 7,5, Lautaro mi sembra troppo, perché ha sbagliato un sacco di palloni e anche un paio di grandi occasioni all'inizio e poi quella per il 2-1, 7, Vidal, d'accordo, 6, Di Marco, Correa Inter, che tucu magico, sognava una notte così, è già amore, volevano dimostrare tanto, possiamo andare lontano, la doppietta dopo la zuccata del 2-1, il bis grazie alla dote migliore e la sua rapidità di pensiero e azione, una grande festa, Inzaghi sembrava un centometrista quando è andato a abbracciare il suo pupillo, l'avesse potuto scrivere lui il romanzo della sua prima in nera azzurro, forse non sarebbe venuto così straordinariamente emozionante, due gol, due prodezze figlie di un repertorio vastissimo che troppo spesso è stato messo in discussione per via delle troppe pause dentro una stessa partita e di una mancanza di cinismo sottoporta, però l'avevamo detto, Correa può entrare e spaccare le partite, direi che l'ha tagliata in due e se l'è portata a casa la partita di ieri con addirittura due gol in 20 minuti, Cagliari e Crotone su Satriano, ma l'addio non è scontato, l'uruguaiano ha convinto Inzaghi ma piace anche all'estero, se parte risalgono le azioni di Keita, io eviterei pastorellate. Simone già nel cuore dei tifosi grandi, ci hanno incitato sempre, Cori per il tecnico anche quando era in svantaggio, vittoria dedicata loro alla società, ha fatto tutto quanto doveva, Di Francesco vede positivo, è giocato bene, è raccolto poco, ma il bene del gioco di, non so dove l'abbia visto, questa la gazzetta, vediamo un attimo anche il Corsera, che parla prima di tutto della situazione Ronaldo, questo ci fa abbastanza venire qualche dubbio, visto che si è andati a giocare la seconda di campionato, Cerasetta ha fatto le valigie, due pagine dedicate a lui e poi Correa arriva, si prende subito l'Inter con una doppietta ribalta il Verona, giallo blu in vantaggio, creazione errore di Andanovic, Lautaro pareggia su asset di Dzeko, la seconda Inter non è bella come la prima ma una stella in più nel motore, occhi in Correa dopo un solo allenamento con i nuovi compagni, ribalta la partita del Bentegodi, regalando a Simone Inzaghi tre punti quasi insperati, un altro argentino, Lautaro Martinez, anche lui all'esordio stagionale dopo la squalifica, un piccolo infortunio, aveva pareggiato i conti a inizio ripresa, cancellando un primo tempo pieno di sofferenza, ma è l'ex laziale rombo interista, ma è l'ex laziale rombo interista, segna prima di testa e poi nel recupero di piede, è una specie di uragano che travolge il Verona, i cambi marcano la differenza tra Correa decisivo, l'innesto di Vidale, pagelle del Corsera, Andanovic 4, mi sembra un po' troppo ingeneroso, non è colpa sua solo il gol, anche i compagni non gli hanno offerto il passaggio giusto, 6,5 screener, De Vraie bastoni, 7 Darmian, 5,5 Barella che più o meno come nostro valutazione, 5 Brozovic, 5 Cialanoglu, 5,5 Perisic, qui non sono d'accordo, 6 Dzeko, 7,5 Lautaro mi sembra un po' troppo per gli errori che ha avuto, 6 Di Marcos e mezzo Vidale, 8 Correa, un Sicario, si alza la panchina, entra in segno, una doppietta con due gran gol, un debutto così neanche nei sogni, 7 Inzaghi, suo uomo Correa, di vincere la partita, Zecchi e Cambi, ribalta un match che aveva preso una brutta piega, vittoria che pesa, ma anche come ha sistemato la squadra nell'intervallo Simone Inzaghi, andiamo a chiudere con Corriere dello Sport e Tutto Sport, vediamo anche Tutto Sport dopo, il Corriere invece subito in prima inizia la sua campagna contro l'Inter anche quest'anno, Correa da favola accende l'Inter, intanto il titolo morto un papa, puntini puntini, è la foto di Ronaldo che si toglie la maglia della Juventus, eviterei questi titoli intanto, e poi il fondo iniziano le picconate, non è tutto oro ciò che vince e si inizia a criticare l'Inter, addirittura si parla solo di Cristiano Ronaldo e Juve per 14 pagine, solo alla quattordicesima si parla di Inter, al Bentegodi partita intensa, il Verona passa in vantaggio favorito da Nerole di Andanovic, ma i campioni ribaltano tutto grazie ai loro due attaccanti più attesi, in particolare l'ex laziale entra e determina il successo, l'Inter è già Lautaro, Correa subito fatale, Illic sfrutta un assist di Anda, pareggia il Toro sui sviluppi di una rimessa di Perisic e poi lascia il posto al Tugu che realizza due gol per il primato, Ongla, Lautaro è rigore ma il VAR non interviene, almeno questo, grazie Cosport, Pagelle, Anda sbaglia, Darmian assist, Illic capolavoro, Inzaghi 6,5 mi sembra un po' poco, Andanovic 5, Skriniar 6, Devrai 6,5, Bastoni 7, Darmian 6,5, Barella 6, Brozovic 5, Vidal 6,5, Cialanuago 5,5, Perisic 6, Di Marco 6, Dzeko 6, Sensi senza voto come Vecino, Lautaro 6,5, Correa 8, il Grimaldello che rompe la serratura, poi Correa sognavo l'Inter sin da piccolo, desideravo entrare e far subito un gol, averne segnato i due è un'emozione grandissima, lui lo può dire, c'è anche le foto che lo testimoniano e quel provino non è andato bene, a piano gentile la foto con Avier Zanetti, questo dunque sul Corriere dello Sport, chiudiamo invece la nostra rassegna stampa mattutina con Tutto Sport, vediamo se arriva la app più lenta dell'universo, Worka, 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 CR7 United, poi Lautaro Correa gol, l'Inter Gran rimonta e per il sostituto di CR Ciao torna Moise Ken, anche qui cosa dire, direi fallimentare le decisioni di, in casa del mercato juventino, prima notte di Correa, festa Inter, già da bambino sognavo l'Inter, una notte bellissima, i compagni mi hanno subito fatto sentire uno di loro, possiamo andare molto lontano, Inzaghi felice, questa rosa è competitiva, i tifosi sono stati splendidi, dedico a loro la vittoria e poi il Verona cede nel finale, il Tuco entra e fa due gol, i primi 45 minuti giallo-blu e rete di Ilice, su Papa e Radian Danovec, nella ripresa pari di Lautaro, poi sostituito dall'ex laziale, per Tutto Sport resiste l'opportunità Nandez, ma bisogna sfoltire la rosa, con Agumet, via anche Salsedo, Colidio e Lazzaro, e forse Satriano, Di Francesco, tanta amarezza, che errori, serve più, attenzione, possesso palla, 43 a 56.8, serata negativa per i due portieri, anche Montipò non irreprensibile sul colpo di testa dal dischetto, ma cosa ha disegnato Correa, Pagelli, Tutto Sport per chiudere, Andanovic 4.5, Skriniar 6, De Vrij 6, Bassoni 6, Darmian 6.5, Varella 6, Brozovic 5.5, Vidal 6.5, Ciananogo 5.5, Perisic 6, Di Marco 6, Dzeko 6.5, Lautaro 7, Correa 8, non è un golador, però brinda l'esordio con una splendida decisiva doppietta, Inzaghi 7, vittoria importante anche se sofferta, Zecchi e Cambi, e resta a punteggio pieno, non so come Tutto Sport possa dare 7 all'arbitro Manganiello dopo quel gol netto, non dato ai neri azzurri che dire buon sabato e cola per tutti, offro io!